Andiamo a vedere cosa stanno combinando le star della WWE sui social e partiamo da Xiali che è in visita a San Francisco. Tra l'altro Xiali, tolti i vestiti della combattente, è anche una ragazza che trasmette serenità. È piacevole, ha un bel viso, cioè mi piace guardare le sue foto. Eccola qua, insomma, che va un po' a spasso e fa la turista. Ora trasferiamoci da Finn Balor che ha deciso di ridisegnare il Monte Rushmore, aggiungendoci ovviamente tutti i suoi compari del Judgment Day, compreso il nuovo arrivato Dominic. Eccolo qua. Poi, uh, qui Natalia ha trovato una foto storica. Quella della famiglia Hart quando era un ospedale. La casa storica della famiglia Hart, infatti, era praticamente un luogo di cura durante la Prima Guerra Mondiale. Eccola qua, la foto ingrandita, mamma mia. Questo è davvero un grande, straordinario reperto storico, soprattutto per i fan di Vecchia Data, come me, che conoscono l'importanza di questo clan e quanto ha contribuito significativamente al mondo del wrestling. Ma pensate. Andiamo avanti, qui c'è Dol Ziegler, che fa gli auguri a René Young, oggi René Pacchette, e condivide una foto, credo privata, di lei che lo gavettona nel backstage. Non mi ricordo, non credo che questo sia andato in onda durante il Raw o SmackDown, e quindi è un bel estratto, di quello che accade lontano dai nostri occhi. Tot, yeah, fatte sta doccia, e via. E voi, qual è l'ultimo gavettone che avete ricevuto? Ditemelo qui sotto nei commenti. Allora, Tristratus. Tristratus è stata confermata come giudice per la stagione numero due di Canada's Got Talent. Quindi sarà uno dei giudici supremi di questo format che c'è anche in Italia. E chiudiamo con Selina Vega, ancora infortunata, che però di tanto in tanto ci regala queste sue foto un po' nerd, al limite, al confine tra il cosplay e il ti mostro qualcosa di un tempo che fu. E alle sue spalle mi sembra di vedere un flipper, un flipper di quelli che ti mettono un po' nostalgia, eh.